Allora ragazzi se mi permettete prima delle premiazioni vorremmo festeggiare quello che dice lui, quello che tromba sempre. Allora l'amico Lorenzo Gemma oggi festegna mille e sceglie di maratone. Quindi attrazzatevi il gattino perché bisogna un bel settino per tutti il staff. Un applauso per la regia Giuliana che ha organizzato questa festa. Grazie. Cosmello, al grande Lorenzo, come lo puoi stappare? Questo di chi è? E' felice! E' felice! Così sono le posizioni! Due per me, che mi toglie dalle... Grazie! E' quel che ti fa fare! Oh no! Più in mezzo! Lorenzo è... A presto! Sì! A presto! Grazie! 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 Grazie!